Il mio tradizionale bentrovato al pubblico di Blog Sicilia per questo nuovo appuntamento con Talk Sicilia, la trasmissione di approfondimento dei fatti che riguardano la regione, la città di Palermo, le città siciliane in generale e di tutti i temi che anche se nazionali hanno un effetto, un'importanza, un'attenzione che ha riverberi di natura regionale. Oggi è il nostro ospite in studio, intanto lo ringraziamo per essere qui con noi, Giovanni Felice, Vice Presidente Nazionale di Confi Imprese Italia, ma anche Presidente di Confi Imprese Palermo. Buonasera Felice, grazie per essere qui. Buonasera a te e ai tuoi spettatori. Bene, con lui vogliamo parlare di una serie di argomenti, ma vogliamo partire da un tema che in questi giorni è al centro delle discussioni che vanno dall'Italia verso l'Europa, dall'Europa verso l'Italia, dall'Italia, insomma verso tutto il Paese. Le scelte che stanno maturando da parte del governo centrale, del governo della Premier Giorgia Meloni, riguardante l'uso del post, i limiti al contante e così via dicendo. Partiamo da una riflessione che Giovanni Felice ha fatto in questi giorni, di cui Blog Sicilia ha scritto, ed è una riflessione proprio che dà il titolo alla nostra trasmissione, la grande bugia del post per la lotta all'evasione. Dunque, perché è una grande bugia Giovanni Felice? Ma diciamo che se la lotta all'evasione si vuole fare attraverso il flusso del contante, attraverso lo scontrino, è evidente che si cerca l'evasione dei poveri. Mi spiego meglio. Oggi chi è che potrebbe non dare lo scontrino? Intanto cominciamo a dire chi non è obbligato a farlo. Non so se la gente è al corrente che la grande distribuzione non ha bisogno di fare lo scontrino, infatti se guardate lo scontrino alla fine c'è scritto non fiscale. Ma lo fanno perché è l'unico modo per garantire una gestione corretta delle merci, del flusso delle merci e anche una verifica su quello che succede all'interno del punto vendita. Questo intanto spieghiamolo meglio alle persone. Lo scontrino che prendete al supermercato in buona sostanza non è uno scontrino fiscale, è questa la sostanza. Esatto. È un documento praticamente quasi interno che serve allo stesso supermercato per controllare all'ingresso e all'uscita delle merci. Non ha però effetti fiscali. Poi abbiamo, se vi guardate in giro per la città, un sacco di negozi in franchising e questi negozi hanno bisogno di un controllo centrale, cioè per il riassortimento, per capire come si fa. Quindi al di là dell'obbligo meno, sono negozi che fanno inevitabilmente lo scontrino. Allo stesso livello, chi ha due o tre punti vendita, inevitabilmente ha bisogno che ci sia l'emissione dello scontrino per poter intanto controllare cosa succede nel negozio e poi per verificare le vendite e i flussi di merce. Da tutto questo restano fuori praticamente quelli che sono emarginati, piccole imprese ed quelli che spesso qualcuno come il Ministro Speranza ha definito gli evasori di necessità. Quindi se la lotta all'evasione rispetto a quello che succede in Italia parte da lì, io penso che sia una vera e propria operazione di distrazione di massa per dire perdiamo tempo a parlare di questo, intanto chi per tanti anni ha continuato a deludere e ad evadere può continuare tranquillamente a farlo, ammesso che ne abbia bisogno, visto che la maggior parte delle aziende italiane di un certo spessore ormai hanno sede in Olanda, in Lussemburgo o in altri luoghi dove i regioni fiscali sono molto meno prestanti del nostro. Faccio un po' l'avvocato del diavolo, l'evasore di necessità, ma siamo sicuri che poi sia effettivamente una evasione di necessità o dietro l'evasore di necessità si nasconde altro? Ma se uno mette in piedi un movimento, un gruppo può darsi, ma se non è così strutturato diciamo non si capisce. Poi ricordo a me stesso, così lo ricordiamo a tutti, che esiste una fascia diciamo di contabilità del regime dei minimi che fino a 65 mila euro di fatturato annui naturalmente, fa pagare il 5% e dal terzo anno il 15%, quindi anche lì chi in qualche maniera si struttura e si organizza alla fine non ha motivo di non fare lo scontrino. E poi io penso anche un'altra cosa che penalizza fortemente il commercio, io infatti sono tra quelli che dice che il regime dei minimi solo per le attività commerciali va elevato almeno a 100 mila euro, perché il professionista, il suo volume d'affari in stragrande maggioranza è utile, contrariamente al commerciante che lì ci sono i costi della merce, quindi mentre un grande regalo portare 65 mila a 85 mila euro il regime dei minimi per i professionisti sicuramente è sempre una limitazione per chi fa commercio, io alle volte penso, visto come è composta la Camera e il Senato, che la grande presenza di professionisti e la grande assenza di commercianti finisce qualche volta a determinare che qualche misura prenda una via anziché un'altra. Questo perché spieghiamo anche questo, nel regime dei minimi in buona sostanza gli acquisti non si possono sgravare dalla tasse o si possono sgravare in maniera molto più ridotta rispetto al regime ordinario. Diciamo ragione sul fatturato, però se tu pensi un professionista c'è lo studio, quindi i costi sono l'affitto, diciamo assolutamente irrisori rispetto a quello che può avere un commerciante che nel fatturato c'è anche diciamo il costo della merce e questa è la grande differenza. 65 mila euro per un commerciante lì ci saranno 30 mila euro almeno di spese di merce, quindi il famoso utile resta su 30 mila euro, il professionista che di solito ha solo lo studio in affitto diciamo avrà 10 mila euro di costi, non ne avrà mai di più, portarlo a 35 mila euro altro che il flat tax. Quindi questo è il motivo per cui, oltretutto dico i post, c'è un altro grande tema, noi parliamo dei limiti all'uso del contante, dell'obbligatorietà del post, ma non è possibile secondo la vostra esperienza invece di intervenire magari nei confronti del sistema bancario, non so adesso in che modo, per eliminare o quantomeno ridurre al minimo quello che sono le commissioni, questo potrebbe essere un sistema per cui il commerciante magari è incentivato all'uso del post a prescindere dagli obblighi. Ma io credo che siamo davanti ad uno Stato che è forte con i deboli e deboli con i forti, cioè davanti alla grande capacità di mobilitazione degli studi bancari, chiaramente si sceglie di prendersela con chi ha meno strumenti di difesa, ci sono attività che hanno già dei margini irrisori, penso a tutti quelli che lavorano a collaggio a partire dai tabacchini, le cose, quindi se si comincia ad andare nel merito delle questioni, io dico sempre che il post è anche un servizio, non è che il commerciante che non ha il post fa una bella figura o il commerciante che rifiuta di accettare il pagamento del post fa una bella figura con il cliente. Ma andando in giro, ma quanti commercianti trovate senza il post? Poi ricordo a tutti, specialmente in Sicilia, che diciamo è una regione dove va molto di moda un provvedimento che si chiama reddito di cittadinanza, che permette la spesa solo attraverso il post, quindi chi rinuncia al post, rinuncia ad una fetta di mercato che in Sicilia è anche importante, quindi il ragionamento va fatto, secondo me al di là dell'obbligo 60, 30, 20, perché immagino la scena di uno che compra qualche cosa e poi non è il contante, perdi la vendita, ma io dico che lì bisognerebbe intervenire, se è una misura di controllo, perché le banche devono mantenere la stessa commissione che hanno sempre avuto? Perché c'è l'obbligo del comunque aprire il conto, comunque di aprire il conto, quindi anche le attività marginali da questo sistema finiscono per essere ulteriormente tartassate, qui non è un problema di difendere nell'abusivismo, nell'evasione, però io credo che le energie che si impegnano su questi sistemi, probabilmente impiegate su altri livelli di evasione e di probabilmente anche per le casse dello Stato farebbero un risultato maggiore. Io penso anche che ci concentriamo su questi argomenti perché siamo davanti ad una finanziaria che di fatto non contiene nulla, non ci sono misure veramente a sostegno delle imprese, c'è un comportamento secondo me assurdo nei confronti del caro di energia, dove sono convintissimo che il credito di imposta finirà per fare riaumentare i prezzi e quindi anziché combattere la speculazione gli si danno strumenti e risorse, diciamo in questi giorni stiamo vedendo i comportamenti scorretti delle compagnie che vendono energia ed anziché trovare contremisure noi continuiamo a fare delle misure che riguardano il prezzo finale e che quindi tu aiuti me a pagare meglio diciamo la compagnia di energia elettrica dove ripeto c'è una sorta di oligarchia che secondo me andrebbe guardata con le lenti di ingrandimento quando si parla di formulazione del prezzo. Ecco questo è l'altro grande tema che è quello del caro costi energetici soprattutto in questi ultimi mesi ma non riguarda soltanto l'energia, adesso stiamo assistendo anche ad esempio questo che riguarda più il settore del turismo e la mobilità, il caro voli ma è un sistema generalizzato nel quale si creano cartelli probabilmente non sempre dimostrabili e quindi i prezzi salgono. Io credo ad una questione profondamente diciamo di logica, non entro nel merito dei trasporti aerei, non conosco le regole quindi diciamo direi corbellerie, mi limito a dire che il buonsenso mi dice in qualche maniera le isole non possono restare tagliate fuori dal resto della nazione perché con quei prezzi significa limitare veramente la libertà di spostamento. Però questo finisce anche per incidere sulle merci, sul commercio, sul turismo, sulla mobilità, anche su quelle che sono gli interessi del terziario. Ma indubbiamente sì, però con la luce è diverso il ragionamento, noi abbiamo assistito ad un mercato che a parità di costo delle merci, a parità di consumi e su un otto volante che non si capisce da che cosa deriva, aumenti da un mese all'altro del 50-60% da parte di tutti contestualmente, cioè non avere il dubbio che ci sia un cartello è diciamo, viene spontaneo pensare che ci sia un cartello come allo stesso modo viene spontaneo pensare che ci sia un cartello quando tra settembre e ottobre i prezzi ribassano del 75%. Ora se non c'era un cartello a monte mi chiedo come potevano ribassare i prezzi del 75% e non del 5-10% in un solo mese. Quindi non riuscire a dimostrare che c'è un cartello è una cosa, ma diciamo che non ci sia il cartello. Poi sull'altra riflessione sono ben 10 le aziende e anche produttrici di energie elettriche che sono sotto la lente di osservazione della GCM perché hanno violato tutti insieme contestualmente il decreto aiuti bis, quindi io mi chiedo insieme per caso tu violano tutti il decreto aiuti bis, insieme aumentano tutti i prezzi, insieme diminuiscono tutti i prezzi, francamente non pensare e non cercare, e secondo me si troverebbe una connessione tra tutto quello che accade, francamente mi pare veramente strano, anche perché ripeto, poi questo è un prezzo che paghiamo noi. Io dico che sull'energia elettrica c'è un altro elemento, l'energia elettrica è un servizio di interesse economico generale, l'energia elettrica serve per la coesione sociale, firmato Comunità Europea non Giovanni Felice, ora a quei prezzi l'energia non è accessibile a tutti, si rischia di smantellare il sistema produttivo nazionale, si rischia di smantellare il sistema di coesione sociale nazionale, a quel punto ci vogliono scelte coraggiose. Quali ad esempio? Quali scelte ad esempio? L'energia costa 0,8 centesimi a kilowatt, io bloccherei il prezzo a 20 centesimi, ed è lo stesso ragionamento che si fa con i trasporti, cioè quando un privato assume l'incarico di seguire il mondo dei trasporti, ci sono delle tratte che assolutamente non sono convenienti, a quel punto siccome è un servizio sociale lo Stato interviene e dici mantieni anche questa tratta che io ti garantisco il rimborso delle spese e un minimo di reddito, perché sull'energia che è oltre che un sistema di interesse economico generale, un settore strategico non si percorre questa strada, perché si continua a stare al fianco di una quindicina di produttori contro milioni di cittadini e centinaia di migliaia di aziende. Questo per me è incomprensibile che la politica non cambi il registro, però diciamo... Ma secondo la vostra opinione, l'errore si è potuto veramente fare nel giorno in cui si è rinunciato al Servizio Elettrico Nazionale privatizzando e mettendo in concorrenza le aziende l'una con l'altra, cosa che poi ha dimostrato essere, doveva servire ad abbassare i prezzi, in realtà non è stato così. Non può essere così, non può essere così perché nei sistemi di concorrenza non esiste un prezzo di riferimento nazionale, nella luce c'è il PUN che è il prezzo unico nazionale che è il prezzo di ingrosso e questo è unico per tutti ed è il punto da cui si parte. E infatti la cosa allucinante che è il controllo su questo settore e del gestore dell'energia nazionale che è di proprietà del Ministero del Tesoro e vedendo questi sbalzi continui nessuno è venuto lì dire ma scusate cosa sta succedendo? L'energia è cosa diversa dal gas, che il gas ha come dire può essere una riserva naturale all'esaurimento per cui che davanti a una maggiore richiesta ci sia un'impennata è anche non so quanto giustificabile ma possibile, sicuramente non è possibile che, ripeto, dal 2004 ad oggi non c'è nessuna variazione sul consumo dell'energia elettrica in Italia. I dati sono assolutamente costanti. Nel 2020 avevamo il prezzo più economico di sempre, gli aumenti aumentano nel 2021, quindi la guerra in Ucraina non c'entra assolutamente nulla. Per me c'è stata una scelta condivisa dai maggiori produttori di energia elettrica che hanno deciso gradatamente di alzare il prezzo dell'energia elettrica e qui non c'entra nulla la concorrenza perché secondo me c'è, anzi l'esatto opposto, c'è agiotaggio, legarchia e un accordo sottobanco e mi assumo le responsabilità di quello che dico e che quindi ha potuto determinare il prezzo in salita e davanti al quasi sommesso popolare, settembre, improvvisamente il prezzo abbassa. Evidentemente hanno capito che erano oltre il limite. La mia preoccupazione è che oggi con il credito d'imposta questi signori aumentano il prezzo in maniera che il credito d'imposta lo incassino direttamente loro. Questo, tornando un attimino dunque adesso dopo questa denuncia forte sulle motivi che secondo l'opinione di Confimpresa di Giovanni Felice, un cartello che si è realizzato dunque in maniera forte e consistente anche quasi criminale direi sulle spalle dei cittadini e delle imprese per il prezzo dell'energia. Ma tornando alla questione scontrini ed evasione fiscale prima di andare verso la chiusura, un tema che non abbiamo trattato è quello dei mercatini, del commercio ambulante, itinerante. Questo è un tema che è rilevante anche in questo senso. Ma io credo che sui mercatini, soprattutto nel meridione, bisognerebbe fare un ragionamento su quello che rappresentano per la collettività. Io qui non sto parlando del servizio che erogano alla cittadinanza, non sto parlando del loro posizionamento nell'abito di un commercio globale che chi non è organizzato, come non sono organizzati i mercatini, ha poche chance di sopravvivere. Non sto parlando della sacca di evasione che sicuramente c'è nei mercatini, ma parliamo veramente di gente che comunque non arriva a fine mese pur evadendo. Il problema è la scelta politica dei suoi mercatini, il quale è? È un servizio di auto welfare? Perché di questo stiamo parlando. Oggi noi siamo davanti ad una logica che nel mercatino può accadere di tutto, che nel mercatino nessuno interviene perché è meglio che la gente stia lì a fare l'abusivo che non fare altre cose. Alla fine il risultato è che comunque le altre cose continuano a farle, che comunque prelevano soldi dallo Stato tramite il reddito di cittadinanza e che comunque i mercati sono sempre più gonfi di persone completamente abusive e sconosciute a tutti, che mettono in seria difficoltà quella fetta di operatori che vorrebbe stare in regola. Io quando parlo di evasione io farei anche una differenza tra chi comunque cerca di pagare, tra chi fa la dichiarazione del reddito e poi magari non riesce a pagarla e chi è assolutamente sconosciuto al fisco o chi è organizzato in partenza per poter evadere il fisco. E questo sicuramente non è né l'ambulante, né il piccolo negoziante di quartiere, né la friggitoria, né qualcos'altro che riguarda questo sistema. Quindi la scelta è se questo è autowelfare, ma togliamo autorizzazioni, togliamo tutto e ognuno si arrange come può, tra virgolette dico è quello che per esempio a Palermo succede, ma è una piaga che riguarda tutto il mezzogiorno d'Italia. E quindi lì bisogna scegliere, perché se sono un'attività imprenditoriale bisogna dargli le minime garanzie di sicurezza sui mercati, quindi un controllo del territorio, perché nei mercati oggi su 150 operatori ce ne saranno una settantina censiti, gli altri 80 no. Quindi in quel mercato chi c'è? Di 70 lo sappiamo, del resto non lo sappiamo. E qui non è più un problema dell'abusivismo, diventa un problema di controllo e di presenza dello Stato nel territorio che oggi purtroppo non c'è e quel che è peggio non si vede all'orizzonte la possibilità che questo avvenga. Parlando infine, perché abbiamo gli ultimi due minuti prima di chiudere la trasmissione di quello che potrebbe essere la lotta all'evasione, se non è il posto, non è la circolazione del contante, non è questo, sicuramente c'è bisogno di maggiore controllo del territorio per quanto riguarda gli ambulanti, ma non è anche quella, non è la fetta più grande dell'evasione, qual è la soluzione, la pillola da somministrare alla barriga della malattia dell'evasione e poi è qualcosa che paghiamo tutti, che è regolare, alla fine paga anche per chi non paga. Prevenire è sempre meglio che curare, un regime fiscale che ti porta via molto più della metà di quello che guadagni perché poi all'Irpef, all'IVA che diciamo viene considerato un passaggio che conosco come in realtà per molte imprese così non è, perché diciamo il guadagno che ci metti all'Inps, tu pensa che se domani mattina decidi di aprire la partita IVA paghi 4 mila euro l'anno a prescindere da quello che incassi o fatturi, quindi diciamo in un sistema di questo tipo la scelta di evadere diventa una necessità, diventa uno sport da praticare, davanti alla possibilità di una, tra virgolette, convenienza, convenienza nell'emersione non rischi di mettere tutto in gioco per fare il furbo e quindi io credo che un regime fiscale agevolato, il grande tema, mi dispiace che sia all'ultimo minuto, di quello che hanno passato le imprese in questi tre anni e che nessuno è in grado di essere al pari col fisco, come si affronta? Perché oggi secondo me non è peccato, non bisogna gridare allo scandalo se si parla di condono, ci sono imprese che da tre anni soffrono sciamalattamente, non riescono a riprendersi e stanno arrivando cartelle pesantissime per cui ragionare sulla possibilità di rimetterli in pista come si fa con i crediti di dubbio e esigibilità perché diciamo che questi non potranno mai pagare, quindi o cerchi un metodo, ripeto, come si fa con i crediti di dubbio e esigibilità per farli rientrare e metterli in carreggiato oppure sai che diciamo li stai contandando a morte e che i soldi messi nel tuo bilancio di fatto sono finiti. Bene, grazie a Giovanni Felice che è stato con noi a parlarci dei problemi delle imprese e del perché il POS e la lotta al contante non è la soluzione per la lotta all'evasione, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito e vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo Talk Sicilia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.